Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha devoluto in beneficenza circa 30.000 mascherine per la collettività alla Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli. Tali dispositivi sono stati sottoposti a sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli all'esito di complesse attività investigative coordinate dalla sezione di criminalità economica e condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Le indagini hanno interessato un imprenditore partenopeo dedito alla commercializzazione di giocattoli che in concomitanza con l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica ha destinato parte delle sue attività economiche al commercio di dispositivi di protezione individuale. I prodotti rinvenuti nei locali aziendali, oltre a riportare la marcatura CE ingannevole, erano anche accompagnati da certificazioni apparentemente rilasciate da enti riconosciuti in ambito comunitario che a seguito degli immediati accertamenti investigativi svolti dalla Polizia Giudiziaria ne hanno disconosciuto la genuinità. Infatti i certificati rinvenuti riportati riferimenti tecnici e normativi solo apparentemente corretti e il logo CE riprodotto in maniera ingannevole attestavano fraudolentemente le conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme comunitarie e nazionali. Le mascherine sequestrate, sottoposte ad analisi da tecnici e medici dell'Aso Napoli 1 Centro, sono state declassificate a prodotti per la collettività, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legge Cura Italia e pertanto sono risultati utilizzabili dalla collettività stessa per la riduzione del pericolo da contagio da Covid-19. A conclusione delle indagini, la Procura della Repubblica ha ritenuto di risporne la devoluzione gratuita al Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana.